Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui con Style Review e Gameplay Sports e con Luigi Pocio e Vitioacido sempre presente, ogni presente, quest'oggi cosa vorremmo fare prima di iniziare con questo video segretissimo per poco? Volevamo informarvi che il nostro secondo canale è ritornato attivo dopo un anno e mezzo di inattività, dopo uno scatafascio di anni luce, eh sì perché l'abbiamo creato tanto per poi dopo abbiamo perso un po' di tempo, mi ha detto lo facciamo per bene, questa volta metteremo cose che sul primo canale evitiamo di mettere e le metteremo sul secondo canale, quindi andate subito sul primo canale se state vedendo questo video, cioè andate sul secondo canale se state vedendo il video sul primo canale, allora chiariamo, questo video lo state vedendo sul primo canale, questa parte del video, quindi correte sul secondo canale, per continuare a vedere il video, ecco appunto, noi vi aspettiamo qui, andate pure, cliccate in alto a destra e troverete il link per il video, a dopo, ovviamente dall'altra parte vi diremo anche altre informazioni sul canale, a dopo.